buongiorno a tutti sono alessandro mazza designer per il secondo anno avuto il piacere di essere l'art director di questo evento il summit insurtech senza dubbio negli ultimi secoli abbiamo contribuito a migliorare in modo molto evidente il nostro stile di vita ma d'altro lato l'uso sconsiderato ci ha spinto a percorrere strade dannose per il pianeta e oggi il binomio tecnologia e sostenibilità è imprescindibile l'unica via d'uscita è riuscire a rendere armonici due concetti apparentemente agli antipodi infatti l'europa già da tempo sta regolamentando l'utilizzo etico della tecnologia e oggi un'azienda deve rispondere necessariamente ai criteri esg per dimostrare la propria sostenibilità la tecnologia si spinge sempre oltre e oggi è in grado addirittura di creare una nuova realtà grazie alle ai ma in primis io come designer sono stato letteralmente travolto dal potenziale di questo nuovo linguaggio infatti con l'utilizzo di piattaforme come chat gpt e mid journey sfruttiamo gli algoritmi per avere in pochi secondi o meglio creare in pochi secondi delle immagini degli scenari dei mondi fantastici o molto molto spettacolari e questo in tempi molto brevi ma chiaramente non è tutto oro quello che luccica e dobbiamo pensare che dietro a questa chiamiamola immediata bellezza c'è un dispendio enorme di energia per esempio infatti dietro alla creazione di immagini e all'utilizzo di questi server c'è un uso spropositato o molto elevato di elettricità per appunto alimentare questi server che devono poi chiaramente venire raffreddati e qui arriva il nostro primo paradosso philip kotler uno degli artefici del green marketing ha evidenziato come ogni cosa che noi produciamo ha un necessario impatto su consumi e sprechi quindi necessariamente l'innovazione deve essere accompagnata da consapevolezza e comportamenti sostenibili che non siano diciamo persi in questa in questo altro mondo nuovo chiamiamolo che si chiama greenwashing infatti come possiamo quindi mettere l'intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità sicuramente grazie all'enorme disponibilità di dati e informazioni di cui le ai dispone e che è in grado di elaborare infatti vediamo nelle prossime slide una piccola una piccola case study che ho messo insieme proprio per capire l'utilizzo di quest'ultima il primo case study è per l'appunto l'energia rinnovabile l'ottimizzazione dell'energia solare per esempio quella prodotta dai pannelli con delle migliorie tecnico ingegneristiche suggerite dall'intelligenza artificiale è in seguito per l'appunto una un'elaborazione dei distruzioni chiave come analisi previsionale angoli ottimali dei pannelli mitigazione dell'ombre dell'ombreggiamento avvisi di manutenzione e ottimizzazione dello stoccaggio dell'energia possono essere per esempio la base di questo connubio tra intelligenza artificiale e risparmio energetico passando al case study numero 2 andiamo ad analizzare quello che è il riciclo dei rifiuti infatti l'intelligenza artificiale ci suggerisce anche in questo caso utilizzandola una connessione tra entità differenti per meglio gestire il problema con sinergiche collaborazioni infatti anche qui possiamo vedere lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti l'analisi previsionale cestini per i rifiuti intelligenti molto utilizzati già in tantissimi paesi riduzione dei rifiuti nella produzione tante altre cose recupero recupero dell'energia il monitoraggio ambientale questi sono alcuni dei punti dove per l'appunto il connubio anche qui è molto evidente e molto funzionale e passiamo al case study numero 3 che riguarda biodiversità e conservazione infatti anche qui in un'altra situazione molto importante per quanto riguarda la sostenibilità possiamo abbinare il lavoro di un drone a quello per l'appunto del del lei ai e raccogliere tutti i dati che servono per meglio comprendere come gestire il territorio l'habitat fondamentalmente in maniera differente e trovare soluzioni innovative per la salvaguardia del del pianeta per passare poi alle considerazioni etiche di tutto ciò alla luce di quanto osservato possiamo comprendere quanto sia importante un uso corretto e sostenibile della tecnologia e dell'intelligenza artificiale infatti è da considerare da tenere presenti per quanto riguarda queste considerazioni etiche sono pregiudizio ed equità trasparenza data privacy un topico molto importante dove tantissima gente ancora oggi fa un pochino di confusione l'impatto ambientale comunque è un qualcosa che vediamo in maniera molto evidente nel nostro day by day ma tutto questo può portare anche a creazioni di nuovi posti di lavoro proprio perché per l'appunto le aziende sono un pochino portate a dover remare tutti dalla dalla sulla stessa direzione il 20 30 è vicino e dobbiamo per l'appunto dare qualcosina di più a questo pianeta senza nuovamente tralasciare anche security and risk che è un altro topico molto molto importante molto parlato diciamo negli ultimi tempi in conclusione che cosa possiamo dire in conclusione secondo me affrontare questo problema di sostenibilità è un qualcosa che non possiamo più tralasciare dobbiamo affrontarlo dobbiamo affrontarlo insieme dobbiamo avere delle regole regolamentazioni è molto importante che il governo il nostro governo come l'europa comunque ci guidino in primis ad avere questi paletti posizionati per noi in maniera molto più drastica e molto anche più più facile in un certo da un certo punto di vista da seguire noi abbiamo davvero bisogno di fare trasparenza e di e di avere delle legislazioni in place che ci permettono poi di essere seguite e a tal scopo il business a sua volta seguirà le grosse aziende le grosse strutture aziendali seguiranno queste legislazioni e noi nel nostro piccolo nel nella nostra vita quotidiana possiamo comunque dare il nostro piccolo contributo come comunità quindi governo business e comunità devono lavorare insieme per cercare questa call to action e creare awareness per per un per tutti ragazzi cioè noi abbiamo davvero bisogno di portare questo messaggio il più possibile alla portata di tutti dobbiamo davvero discuterne il più possibile secondo me dobbiamo davvero cercare di dare il nostro piccolo contributo per esempio io come designer faccio utilizzo per l'appunto l'intelligenza artificiale proprio per cercare di produrre immagini che suscitino un certo tipo di diciamo stupore ma poi utilizzo anche un certo tipo di informazione su alcune delle dicissitudini del momento riguardo l'ambiente non ci bisogna mai stancare secondo me di proporre queste cose e di renderle davvero alla portata di tutti dobbiamo sfruttare al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale della tecnologia per arrivare finalmente ad una sostenibilità dovuta al nostro pianeta con questo ringrazio volevo ringraziare l'italian insurtech association per avermi dato l'opportunità di parlare ringrazio cine light con il quale collaboro per il il summit e vi auguro un buon proseguimento grazie a tutti